Francesco Scianna l'operazione con Montaldo era una cosa a cui tenevo molto quindi insomma questo premio per me è particolarmente sentito perché credo che anche riuscire a comunicare a dare molto in ruoli piccoli sia una bella sfida e quindi insomma sono felicissimo Tra l'altro ruolo insolito per te è piccolo però insolito perché rappresenti un personaggio piuttosto ambiguo Sì, è un ruolo nuovo più che insolito perché comunque quello che sto cercando di fare è di differenziare il più possibile perché quella è la linea che vorrei seguire nella mia carriera questa era un'opportunità e l'ho colta al volo Senti, a chi dedichi il premio? A mio fratello che tra qualche ora diventa papà e quindi a suo figlio e insomma questo è per loro Quindi anche a te che diventi zio? A me che divento zio però io in secondo piano almeno una volta fuori da questo protagonismo ingombrante No, no, lo dedico a loro due e a sua moglie insomma Senti, ma quanto valore ha un premio assegnato da degli addetti ai lavori? Perché comunque il premio Lara è assegnato da degli agenti che quindi credono in un particolare talento? Beh, sì, sicuramente è un premio credo decisamente voluto e sentito potessi li prenderei tutti questi agenti No, no, quindi insomma credo che sia cioè sono, ripeto, doppiamente felice perché è stato apprezzato si vede il lavoro che ho fatto e siccome ho investito molto sono contento Grazie a tutti